Tutta il femminile la rassegna letteraria Tintilian Noir, ideata da Mirko Addesa, che torna con due appuntamenti dopo lo stop imposto l'anno scorso dall'emergenza Covid. Domani, lunedì 6 settembre, la prima all'auditorium della Fondazione Molise Cultura, Miriam Sassani dialogherà con Sara Bilotti. Due giorni dopo, mercoledì, stessa ora, stessa location, Adele Fraracci e Simonetta Tassinari chiacchiereranno con Piera Carlo Magno e Livia Sanbrotta. Chiaramente ripartire dall'editoria, basta andare a vedere i tour promozionali che stanno facendo gli autori, quasi tutti, è anche un po' complicato riuscire a prendere una data giusta per farli venire. Però devo dire che la disponibilità delle tre autrici è stata assolutamente immediata e di questo sono veramente felice, anche perché sono tre grandissime autrici del Noir italiano. E questo mi rende veramente felice e sono felice che la gente possa ascoltare i loro racconti e parlare dei loro romanzi, non solo, parleremo di tante altre cose. Si torna gradualmente alla normalità puntando sulla cultura, sulla letteratura in questo caso. Scrittrici e scrittori sono molto impegnati in ogni parte d'Italia in questa fine estate. Nonostante questo, Bilotti, Carlo Magno e Sanbrotta non hanno esitato e hanno trovato un posto nella loro affollatissima agenda per il Molise e per la rassegna di Mirco Addesa, che giunta alla terza edizione è diventata un evento di richiamo e già di riferimento. La soddisfazione c'è perché ovviamente quest'anno poi avremo, oltretutto abbiamo avuto l'appoggio alla Fondazione Molise Cultura, vi fa grande piacere perché sono stati molto carini nell'accettare il nostro invito appunto a sponsorizzarci e a darci una mano enorme, devo dire, anche come struttura e quant'altro. Permettimi di ringraziare anche la Banca Popolare delle Molise Molise che ci ha da sempre supportato in questa avventura. Abbiamo tre autrici importanti, il 6 ci sarà Sara Bilotti, oltre ad essere un'autrice, insomma, è quella persona molto presente sui social, molto seguita, molto simpatica. E poi avremo nella seconda serata dell'otto due autrici che verranno insieme, tra l'altro tra di loro sono molto amiche e hanno voluto loro essere insieme, e sono Piera Carlo Magno e Livia Samblotta. Tra l'altro Livia Samblotta è fresca vincitrice del premio Selezione e Bancarella con un thriller, mi spiegato, fa capire anche la portata di questo romanzo che viene a rappresentare. Si torna alla normalità, ma naturalmente in sicurezza. L'ingresso ai due eventi è gratuito, è obbligatoria, però la prenotazione è su live-ticket.it ed è obbligatorio il Green Pass. Allora, gli orari sono sia il 6 che l'8 alle 18 e 30, la Fondazione Munise Cultura è l'auditorium, quindi anche una location abbastanza importante e prestigiosa. Si può prenotare su live-ticket, se qualcuno ci segue, insomma, può andare, l'abbiamo messo anche sulle mie pagine Facebook, quindi si può tranquillamente arrivare. Si può anche prenotare la sera stessa, dalle 17 il posto, è nominativo, ovviamente si entra col Green Pass e la prenotazione è obbligatoria perché è nominativa, quindi per ovvi motivi di sicurezza anche va bene così, insomma, già il fatto che la manifestazione si possa fare per noi è già un grandissimo successo. Grazie a tutti.